Marco Dallacosta, in questo incontro hai espresso parole importanti, veramente da capitano. Che cos'è per te il bra? Per me il bra, come ho spiegato prima, è una sorta di famiglia, nel senso che qua non ci sono i ruoli rigidi di un mister, di un direttore, qua è per fortuna un po' dove ti puoi confrontare con ognuno di loro, è un ambiente pulito, sereno, dove non mettono nessun tipo di pressione e dove si può far calcio in modo giusto, abbiamo tutto il necessario, tutte le strutture adatte per fare. Poi ovvio, io stravedo per questi colori perché qua ho vissuto momenti importanti e indipendentemente da questo mi rimane sempre il cuore. Sei tornato dunque con lo spirito giusto, come hai trovato i tuoi nuovi compagni? Ma ogni anno, ogni due o tre anni in questo ambiente qua c'è un cambio generazionale. Io sono arrivato qua che ero poco più che un ragazzino, adesso mi ritrovo con questo particolare importante ruolo di capitano. Ci sono molti ragazzi giovani che hanno bisogno e devono crescere e sono nel posto giusto. Ci sono persone che già hanno fatto questo campionato e ci sono altre persone che io reputo dei veri top player della categoria che hanno vinto campionati di serie D che potranno sicuramente darci una mano. Quindi ogni giovane secondo me ha molte qualità e deve trovare il mondo, il tempo, deve essere da fuoco a sentire i consigli di quelli più vecchi per ascoltare l'anno.